e oggi è un appuntamento particolare della trading room diciamo non è live ma è un video registrato vi farò vedere alcune idee che posso avere questa settimana su tre principali mercati forex e anche settimana prossima sarà lo stesso per poi tornare alla trading room della settimana successiva quindi partiamo subito la prima che vorrei farvi vedere è sterlina yen sterlina yen perché ha un'impostazione particolarmente a mio avviso interessante che potrebbe far continuare i prezzi fino ai livelli successivi 137.80 almeno inizialmente e un settimanale vedete che va a riportarsi sopra la zona 135 una chiusura sopra e quindi con un'impostazione di questo tipo una dinamica che potrebbe richiamare nuovamente i compratori durante appunto questa settimana quindi noto un mercato interessante che ha al momento un insight take out su daily ma non confermata ovviamente tutto quello che io oggi vi dirò deve essere poi confermato con delle magari impostazioni dinamica di prezzo a 4 ore o comunque sul daily ci devono essere delle convalide chiare oggi non ci sono queste però sicuramente sterlina yen è uno di quei mercati che seguirò molto da vicino perché ha un'impostazione buona è ovviamente un cross fatto da dollaro yen e sterlina dollaro quindi entrambi avete visto hanno avuto dei movimenti particolarmente interessanti tant'è che questa inizio settimana adesso siamo a lunedì sono le 1 e 3 quarti le 13 e 45 bene o male è in un momento di vedete di stasi di decisione proprio perché sia la sterlina dollaro è salita molto che dollaro yen è sceso molto quindi in questo caso direi che comunque è molto interessante ci sono le due aree verdi che sono queste due zone qui ci sono 35 e 134 ci sono due aree dove io cercherò delle conferme long già quindi questa potrebbe essere una zona se ci dovesse essere il breakout della IFO allora bene si potrebbe andare a comprare o comunque a cercare delle conferme di acquisto e ovviamente dovremmo avere un 4 ore che ci conferma la dinamica nelle prossime giornate diciamo che lo seguirò comunque da vicino perché è un mercato sicuramente interessante per questa settimana altro mercato interessante ma diverso perché su sterlina yen sono long diciamo come view non che mi metto long ma devo avere delle conferme come dicevo prima lo dico soprattutto perché all'inizio che seguo un po' il mio approccio cerco sempre le conferme e l'euro sterline invece sarei più venditore di sterline e compratore di euro ovviamente anche qui abbiamo un'impostazione una dinamica di price action sicuramente molto interessante avevamo avuto la rottura della FTV power con una tenuta dei livelli di 0,90 e 0,90 e 50 la possibilità di vedere continuazioni long su questo cross il daily è impostato bene seppur vedete abbiamo comunque degli spike molto ampi vedremo un po' come tiene adesso questa zona questo è un 4 ore vedete che abbiamo quest'area particolare che è molto molto importante soprattutto nelle ultime giornate si vede bene su 4 ore c'è stata la tenuta di quest'area qui quindi vedremo se ci ritorna al di sopra poi è vero che abbiamo tutti i massimi ma soprattutto ritornare al di sopra in chiusura della prossima barra importante perché avrebbe come dire sarebbe un sinonimo di forza di questo mercato al momento quindi il daily è ancora incerto ripeto è un daily che si chiuderà questa sera quindi poi domani comunque nei prossimi giorni li vedremo però l'impostazione rimane long anche se lui dovesse tornare al ribasso diciamo che fin tanto che rimaniamo al di sopra di queste zone siamo sempre su zone molto molto di domanda quindi 0,90 e 50, 0,90 in primis sono le aree chiave quindi io sono dell'idea che ci potrebbe essere una continuazione long nelle prossime giornate però dovrò avere delle conferme che al momento ripeto non ho per mettermi lungo su questo mercato poi abbiamo molto interessante anche il dollaro australiano sul dollaro americano ricordo che il dollaro americano nelle ultime settimane soprattutto nelle ultime due ha avuto dei rialzi cioè tutte le valute principali contro il dollaro americano hanno avuto dei rialzi quindi il dollaro si è depreciato di valore vedi l'euro dollaro, vedi anche l'australiano ma vedi anche il dollaro franco per esempio e altri, il dollaro yen eccetera anche le, avete visto, materie prime principali dei metalli metalli preziosi come l'oro, l'argento avete visto i movimenti che hanno avuto quindi il dollaro americano che si è depreciato in generale e quindi l'australiano dollaro che in questo momento è in un'impostazione anche lui molto long è sopra le aree di 0,70 e 30, 0,70 e 50 questa zona qui che era la zona di offerta molto chiara sul grafico mensile del dollaro australiano weekly che per la prima volta dopo mesi chiude nuovamente al di sopra di questa zona questa è sicuramente una informazione che ci sta indicando forza su questo mercato quindi il dollaro australiano, abbiamo sicuramente la possibilità di continuazione se chiude così oggi un FTW Power che se dovessimo avere delle conferme poi nei prossimi giorni assolutamente andremo a provare a comprare ovviamente il 4 ore deve essere confermativo perché come sapete poi lì se ci dà delle conferme potremmo tranquillamente fare un trade anche con un buonissimo risk reward quindi in linea di massima direi attendiamo la conferma intanto di questa sera perché se poi questa sera ci dovesse essere conferma nei prossimi giorni questo sarà sicuramente un mercato assolutamente da monitorare a 360 gradi comunque anche se ci dovessero essere dei movimenti più sotto verso 0,69 e 90 ma anche verso quest'area verde 0,69 e 0,69 e 20 direi che al momento l'impostazione rimane completamente long e quindi è preferibile rimanere in ottica long su questo mercato questi diciamo sono i tre cross l'Australia dollaro cambio e i due cross la sterlina yen e la sterlina da tenere monitorati per la settimana in realtà ti ero monitorato un po' tutto il mercato principale che seguo quindi i maggiori mercati del forex perché ci sono state veramente delle grandissime direzionalità guardate un po' nella watch list l'euro dollaro supera area 1,17 stiamo su sterlina sopra area 1,28 insomma stiamo praticamente il dollaro yen è sotto 106 stiamo praticamente su mercati molto spinti in volatilità e quando è così bisogna stare molto attenti perché dei recuperi anche repentini potrebbero arrivare quindi quelle che vi ho mostrato sono diciamo quelle coppie di valute che in realtà sono più interessanti da un certo punto di vista e che potrebbero dare realmente qualche spunto operativo durante la settimana non che le altre non le diano però le altre hanno già dato moltissimo potrebbero continuare a dare ma bisogna stare un po' più attenti quando la vola è alta la velocità appunto è come andare in automobile ai 200 all'ora in una strada stretta e quindi si può incappare in qualche buca che il chief manda fuori quindi attenzione, attenzione massima ripeto, australia dollaro con anche il neozelandese in realtà e sterlina yen e australia molto interessanti non ovviamente andrò a comprare adesso ma cercherò delle conferme se ci saranno in settimana questi tre mercati sicuramente sono per me tra i primi da monitorare a questo punto io direi che ho finito vi saluto spero abbiate gradito anche se non la live ma comunque questa mini analisi dei prezzi dei maggiori mercati soprattutto di quelli più impostati questa settimana anche la settimana prossima farò lo stesso perché mi sono preso qualche giorno anch'io di pseudo riposo e poi dalla settimana dopo ritorneremo con le trading non classiche quindi vi auguro una buona settimana un buon trading simple e per qualsiasi cosa potete iscrivervi a Platino che continua ovviamente e seguirci costantemente nel canale youtube con i nostri video io vi auguro una buona settimana un buon trading simple ciao a tutti